Bene ragazzi, allora, prima di iniziare il video, non so se conoscete la trasmissione Camera Caffè, c'è una puntata in cui Anna, la segretaria di De Marinis delle prime stagioni, le riceve un'apo in posta, un elenco di cose imbarazzanti da fare, perché se non le fa gli sarebbero successe cose brutte. Ecco, una di queste era stare mezza nuda, c'è quel reggiseno, insomma, in gonna molto provocante, ad andare in giro, insomma, a camminare e fare solo un oggetto sessuale, solo un oggetto sessuale, solo un oggetto sessuale. Mi sa che Davide Calabria l'ha vista questa puntata e ha voluto imitare Anna solo nei fatti e non nelle parole, perché è questo che hai fatto stasera, cretino! Tu dici hai vinto 4 a 2 che ti lamenti, mi lamento e come? Andiamo con calma. Allora, partita dei rossoneri che comincia in salita, lo Slavia-Praga ci ha messo in sé le difficoltà. Fino allo 0 a 0 eravamo quasi in parità, solo che loro avevano avuto più occasioni da parte davanti all'area nostra. Fortuna che hanno mancato di tutto, perché se tiravano un po' più di precisione, quelli stavano 2 a 0 già al primo tempo. Cioè io non lo so, non lo so, il Milan per ora sta battendo lo Slavia-Praga, perché abbiamo vinto 4 a 2. Però ragazzi, non si può continuare così. Uno che deve vincere l'Europa League non può fare ste cavolate. Cioè mi pari, cioè Milan in questo momento mi pari veramente, come si chiama, Tiziano, l'avvocato di Masterchef. Tu dici però quello ha vinto Masterchef. Eh ma nella puntata dell'Oilgate, come si chiama, cosa ha fatto dell'Oilgate? Ha barato mettendo l'olio quando il tempo era scaduto. Qua il Milan non ha imbrogliato, il Milan ha giocato realmente. Però la cosa che mi fa incavolare è che ha fatto veramente, come si chiama, delle cavolate assurde. Raffaele, delle cavolate incredibili. Cioè no, no, Raffaele ha fatto benissimo, scusate. Ha fatto il gol del 42 Leao, scusate. Però il Milan ha fatto delle cavolate incredibili. Cioè, e la cosa triste è che nella curva sotto, insomma, la volata finale verso i tifosi, non c'era Samuel Ciucuese. Cioè, ma stiamo rovinando un potenziale campione. Ciucuese al Milan era ottimo. Osimena ha avuto difficoltà al primo anno. Eh sì, ma qualcosa l'ha dimostrata. Anche Ciucuese l'ha dimostrata qualcosa. Tutti dicono De Catella Arbis. Ma quale De Catella Arbis? Ciucuese è bravo, Samuel. Ciucuese è bravo. Ah no, ma c'era anche lui niente sotto la curva. Ah, mi sono sbagliato. C'era anche lui, c'era anche lui. Mi sono sbagliato. Però ragazzi, non è possibile. Cioè, non è possibile fare queste, comportarsi in questo modo con Ciucuese per Pioli e fare queste cavolate per quanto riguarda la squadra. Comunque, parliamo un po' della squadra, scusatemi. Dopo lo, allora, faremo insomma il, faremo le pagere adesso. Allora, Meignan, voto 7. Non potevi fare altro con il gol contro, il gol che hai acchiappato contro quelli. Non potevi fare altro, caro, caro, che dico, caro Meignan, scusate. Calabria, figuriamoci, caro Meignan. Florenzi, 5 e mezzo. Il tuo stupido giallo ci costa la squalifica che mo' a Praga dovremmo avere te, il signor oggetto sessuale Calabria. Dobbiamo averlo, come si chiama, dobbiamo averlo in, come si chiama, a Praga. Dobbiamo avere Calabria, mannaccia a noi, mannaccia a Florenzi che si è fatta a munire. Teo Hernandez, voto, vediamo un po' se c'è anche Ciucuese, aspettate. Un momento. Ma non c'era Ciucuese sotto la curva. Allora non mi sbagliavo, non c'è Samuel. Povero Samuel, mi dispiace. Eh, povero ragazzo, Ciucuese, ringrazio Leao. Veramente, grazie Leao. Cioè, guarda, è riuscito a umiliare, cioè, quel cretino di Pioli è riuscito a umiliare Ciucuese. Però, tornando alle pagine, scusate che mi sto distraendo perché ho il video qua davanti. Allora, tornando alla partita, allora, Teo Hernandez, allora, Florenzi l'ho detto 5 e mezzo per questa cazzata. Teo Hernandez, voto anche tu 5 e mezzo perché hai fatto bene ma non bene, le sgaloppate le hai fatte. Ma in difesa hai fatto provocare il gol del 3 a 2 e questa è una cosa imperdonabile. Poi al centro, vediamo un poco, allora, al, ecco qua, vedete? Allora, al centro della difesa, Kier e Gabbia, una bella coppia. Kier voto 6, dai, 6 più, hai fatto bene stasera. Gabbia voto 6 meno per qualche errorino dietro, non posso dirti nulla di negativo. Per quanto riguarda il gol, no, scusate, al centrocampo, allora, Tomori ha fatto 6 e mezzo. Bravo anche tu, Ficaio, ti sei comportato molto molto bene, bravo. L'oggetto sessuale Calabria, voto 4 e mezzo, il peggiore della partita. Ma cosa cazzo ti è preso, Davide? Ti sei fatto ammonire pure tu, ma sei diffidato. Ma a Praga dovrai giocare tu, vedi di non farti espellere, cioè che trattenute stupide sono quelle. Pioli, dovevi mettere Cimenez, punto. Ma ogni guarda un attimo il gol del 4 a 2, Raffael fa una giocata da, il migliore della partita, 8 e mezzo stasera, Raffael, il migliore della partita, 8 e mezzo. Grazie Raffael, come si chiama sto video? Grazie Raffael, grazie che ci hai salvato, grazie. Tu ma stai vincendo 3 a 2, 4 a 2 è sempre meglio con due gol di scarto. Comunque, tornando a noi, allora, dicevamo, centrocampo, Reinders, voto 6 e mezzo. E avevi iniziato male, Tijani, però ti sei ripreso poi, hai preso un bel 6 e mezzo perché hai fatto un gol stratosferico. Continua così, l'ho sempre detto che sei più forte di Frattesi, però devi continuare così, Reinders. Comunque, tornando a noi, l'off to cheek, sì, Ruben segna sempre. E qual è la novità? Terzo gol in tre partite, l'off to cheek, anche tu, voto 7, un po' più di Tijani perché hai fatto meglio. Adli, 6 e mezzo, hai fatto bene pure tu. Entra Benaser, voto 6 e mezzo pure tu con Ismael e tutta un'altra cosa. Poi, andiamo in attacco, Leao, l'ho detto, 8 e mezzo, il migliore della partita. Olivier Giroud, voto, beh, io direi... Ehi, scusate, mi sto cercando di mettere l'audio per sentire Reinders, vabbè, lo sentirò a fine partita, ho capito, mannaccia. A questo stupido, scusatemi per la rabbia, a questo stupido servizio di streaming. Allora, comunque, Giroud stasera ti becchi un 5, cioè non c'è questo diciano, hai fatto gol dell'1-0, scusami Olivero. Ti becchi un, un, io direi un bel, un bel 6 e, 6 più, va? Perché hai fatto un bel gol, ma per il resto non ti sei visto granché. Però un 6 più per il gol. Pulisic, per aver aiutato Leao, voto 6 e mezzo, grande Cristian. Okafor, io direi, cioè qua senza voto perché non l'hai fatto, non ti sei visto tanto, però almeno, cioè, ma poi dall'altro Okafor, scusami, Pioli, ma che l'hai fatto entrare Okafor a fare? Jovic, sei meno perché hai fatto un tiro finito fuori di poco, cazzarola Luca, veramente sei grande. Sei grande Luca, veramente sei grande. Anche tu, Noah, però stasera non avete fatto grande, tu Luca ha fatto qualcosa, tu Noah però tranquilli, nessun problema. Come avete fatto, comunque vi siete scesi in campo, questo è l'importante. Pioli, 6 più per la partita, voglio dirtelo, però ti tolgo un voto per non aver fatto entrare Chukweze. Ma fallo entrare, poverino! Cioè tu hai, se non ti piaceva Chukweze, lo mettevi sul mercato già a gennaio e ti tenevi ciacca Traoré, invece hai mandato via Traoré, fai entrare Samuel, quantomeno. Chukweze si chiama Samuel di nome, per chi non lo sapesse. Vabbè ragazzi, il video è finito, lasciate un like se vi piace e condividete. Ciao raga!